La città senza nome Quando mi avvicinai alla città senza nome capii che era maledetta. Viaggiavo in una vallata riarsa e terribile sotto la luna e da lontano la vidi sporgere stranamente al di sopra della sabbia così come parti di un cadavere sporgono da una tomba mal ricoperta. La paura parlava dalle pietre consunte di quella antica sopravvivenza del diluvio di quella antenata della piramide più antica e un'aura invisibile mi respinse e mi ordinò di allontanarmi da quei segreti antichi e sinistri che nessun uomo vorrebbe mai vedere e che nessun altro uomo aveva mai osato vedere. Remota nel deserto dell'Arabia si stende la città senza nome, sgretolata e diruta, le basse mura semi nascoste dalla sabbia di innumerevoli ere. Doveva essere così prima che fossero gettate le fondamenta di Menfi e quando i mattoni di Babilonia ancora non erano cotti. Non esiste nessuna leggenda tanto antica da darle un nome e da ricordarla viva ma se ne sussurra intorno ai fuochi degli accampamenti e le vecchie ne mormorano nelle tende degli sceicchi così tutte le tribù la evitano senza sapere assolutamente perché. Fu di quella città che Abdul al-Hazred, il poeta pazzo, sognò la notte prima di creare il suo inspiegabile distico. Non è morto ciò che può vivere in eterno e in strani eoni anche la morte può morire. Avrei dovuto sapere che gli Arabi avevano buone ragioni per evitare la città senza nome. La città in cui si parla in strani racconti ma che non era mai stata vista da nessun uomo vivente. Eppure li sfidai e mi addormentai nell'olanda desolata e inesplorata con il mio cammello. Io solo l'ho vista ed è per questo che nessun altro volto ha un'espressione di paura così orrenda come il mio. Nessun altro uomo è conto da un tremito tanto orribile quando il vento della notte fa sbattere le finestre. Quando me la trovai davanti nella quieta spettrale di un sonno infinito lei mi guardò gelida nella luce di una luna fredda al centro del calore del deserto e quando le restituì lo sguardo dimenticai il mio trionfo nell'averla trovata e mi fermai con il mio cammello ad aspettare l'alba. Aspettai per ore finché il cielo ad oriente divenne grigio e le stelle svanirono e quindi il grigio divenne una luce rosata bordata d'oro. Udì un lamento e vidi una tempesta di sabbia agitarsi tra le pietre antiche sebbene il cielo fosse limpido e le vaste distese del deserto immobili. Poi ad un tratto al di sopra dell'orizzonte si alzò una striscia ardente di sole visibile attraverso la piccola tempesta di sabbia che si stava allontanando. Nel mio stato di eccitazione immaginai che da remote profondità arrivasse un clangore a salutare il disco fiammeggiante così come Memnon lo saluta dalle rive del Nilo. Le orecchie mi fischiarono e l'immaginazione mi si accese mentre guidavo lentamente il cammello lungo la distesa di sabbia verso quel luogo sconosciuto. Quel luogo che io da solo tra i vivi ho visto. Vagai tra le informi fondamenta delle case senza trovare né una scultura né un'iscrizione che parlasse di quegli uomini se uomini erano che costruirono quella città e vi dimorarono ere prima. L'antichità del posto era malsana e desiderai ardentemente incontrare qualche segno del fatto che la città fosse stata veramente edificata dal genere umano. Le rovine avevano proporzioni e dimensioni che non mi piacquero. Avevo con me parecchi attrezzi e scavai molto all'interno delle mura degli edifici distrutti ma procedevo lentamente e non scopri nulla di significativo. Quando la notte e la luna tornarono senti un vento gelido che portò una nuova paura così che non osai per restare nella città e quando uscii dalle vetuste mura per andare a dormire una piccola tempesta di sabbia si raccolse alle mie spalle. Gemeva e soffiava sulle pietre grigie sebbene la luna fosse luminosa e la maggior parte del deserto immobile. Mi svegliai all'alba da sogni orribili mentre le orecchie mi fischiavano come per uno scampanio metallico. Vidi il sole trapelare rosso fra le ultime folate di una piccola tempesta di sabbia che si ribrava sulla città senza nome e sottolineava la tranquillità del resto del paesaggio. Ancora una volta mi avventai entro quelle rovine incombenti che si gonfiano sotto la sabbia come un orco sotto una coperta e di nuovo scavai alla vana ricerca dei resti di quella razza dimenticata. A mezzogiorno mi fermai e nel pomeriggio passai molto tempo a rintracciare le mura, le strade antiche e i profili degli edifici semidistrutti. Mi accorsi che la città era stata veramente potente e mi chiesi le fonti della sua grandezza. Immaginai tutti gli splendori di un'età così lontana che la caldea non la ricordava e pensai a Sarnat la condannata che si ergeva nella terra di Mnar quando il genere umano era giovane e a Dib che fu scolpita nella pietra grisa prima della nascita del genere umano. D'improvviso mi imbattei in un luogo dove il fondo roccioso si alzava ripido dalla sabbia a formare un basso di lupo e lì vidi con gioia un'apparente promessa di altre tracce di quel popolo antidiluviano. tagliate rozzamente sulle pareti del dirupo c'erano le inconfondibili facciate di parecchi piccoli edifici o templi di formatozza. Al loro interno potevano essere conservati molti segreti di aree troppo remote per essere calcolate sebbene le tempeste di sabbia avessero già da lungo tempo cancellato ogni incisione che fosse stata all'esterno. Vicino a me molto in basso e coperte di sabbia c'erano delle buie aperture ma io ne liberai una con la vanga e strisciai all'interno portando una torcia per illuminare qualsiasi mistero vi fosse celato. Quando fui dentro vedi che la caverna era veramente un tempio e scorsi chiari segni della razza che lì era vissuta e vi aveva celebrato riti prima che il deserto fosse un deserto. Vi erano altari primitivi colonne e nicchie tutti stranamente bassi e sebbene non vedessi né sculture né freschi c'erano molte pietre singolari che erano state scolpite con mezzi artificiali per rappresentare dei simboli. La bassezza della stanza scavata nella roccia era molto strana visto che potevo a stento stare in ginocchio ma lo spazio era tanto vasto e la torcia ne illuminava solo una parte alla volta. La brividi stranamente nel vedere alcuni degli angoli più lontani perché certi altari e certe pietre alludevano a riti di una natura terribile rivoltante ed inesplicabile e mi spinsero a chiedermi che genere di uomini avesse potuto costruire e frequentare un tempio simile. Quando vidi tutto quello che conteneva la caverna strisciai di nuovo fuori avido di scoprire che cosa potevano offrire i templi. La notte si era ormai avvicinata ma le cose tangibili che avevo visto resero la curiosità più forte della paura perciò non fuggì dalle lunghe ombre formate dalla luna che mi avevano atterrito quando avevo visto per la prima volta la città senza nome. Nella luce del crepuscolo sgomberai un'altra paura e con una nuova torcia strisciai all'interno. Trovai altre pietre e simboli vaghi sebbene nulla di più definito del contenuto dell'altro tempio. La stanza era altrettanto bassa ma molto meno ampia e finiva in un passaggio strettissimo stipato da reliquie oscure e misteriose. Stavo curiosando intorno a quelle reliquie quando un rumore di vento e il mio cammello rupperò il silenzio e mi spensero fuori per vedere che cosa avesse spaventato l'animale. La luna splendeva vivida sulle rovine primitive e illuminava una densa nube di sabbia che sembrava spinta da un vento forte ma calante proveniente da qualche punto lungo il dirupo che mi stava davanti. Capì che era stato quel vento gelido e sabbioso a disturbare il cammello ed ero in procinto di condurlo in un posto meglio riparato quando mi capitò di alzare gli occhi e notare che non c'era vento sulla cima del dirupo. Questo mi stupì e mi spaventò ma immediatamente ricordai gli improvvisi venti locali che avevo già visto e udito all'alba e al tramonto e reputai che fosse un fenomeno normale. Decisi che proveniva da qualche fessura nella roccia che si apriva su una caverna e guardai la sabbia smossa per rintracciare la fonte del vento. Ben presto mi accorsi che proveniva dall'apertura nera di un tempio che si trovava ad una grande distanza da me a sud quasi fuori dalla mia vista. Avanzai allora a fatica lottando contro la soffocante nuve di sabbia verso quel tempio che quando mi avvicinai si rivelò più grande degli altri e mostrò un'entrata molto meno ostruita di sabbia disseccata. Sarei entrato se la forza terrificante del vento ghiacciato non fosse stata sul punto di spegnere la torcia. Sgorgava violentemente da quella scura entrata fischiando stranamente mentre increspava la sabbia e si stendeva tra le misteriose rovine. Ben presto scemò e la sabbia divenne sempre più immobile finché tutto non fu nuovamente in pace ma una presenza sembrava girarsi tra le pietre spettrali della città e quando guardai la luna l'astro sembrò tremolare come se fosse riflesso in acque agitate. Provavo una paura indescrivibile ma non sufficiente a lenire la mia sete di meraviglie per cui non appena il vento scomparve completamente entrai nell'oscura caverna da cui ero uscito. Quel tempio come avevo immaginato all'esterno era più grande di quelli che avevo già visitato ed era presumibilmente una grotta naturale visto che serviva da passaggio per i venti provenienti da qualche zona al di là. Lì potevo stare in posizione eretta ma notai che le pietre e gli altari erano bassi come quelli degli altri templi. Sulle pareti e sul tetto vidi per la prima volta delle tracce dell'arte pittorica di quella razza antica. Strane spirali di colore che erano sbiadite o sgretolate e su due degli altari vidi con eccitazione crescente un intrico di incisioni curviline e di ottima fattura. Quando alzai in alto la torcia mi parve che la forma del tetto fosse troppo regolare per essere naturale e mi chiesi a che cosa avessero lavorato prima quei tagliatori di pietra preistorici. La loro perizia in ingegneria doveva essere grande. Poi una vampata più luminosa di quella bizzarra fiamma mi rivelò ciò che stavo cercando. L'apertura su quegli abissi remoti da cui provenivano i venti improvvisi e mi sentii svenire quando vidi che era un'entrata piccola e palesemente artificiale tagliata nella solida roccia. Vi infilai la torcia e vidi un tunnel nero con il tetto che si inarcava in basso su una rozza rampa in discesa di gradini piccolissimi numerosi e ripidi. Vedrò sempre quei gradini nei miei sogni perché venne a sapere che cosa significavano. In quel momento a malapena sapevo se definirli gradini o semplici appigli in una discesa precipitosa. La mia mente turbinava di folli pensieri e le parole e gli avvertimenti dei profeti arabi sembravano attraversare il deserto dalle terre che gli uomini conoscono alla città senza nome che gli uomini non osavano conoscere. Ma esitai solo per un istante prima di attraversare il portale che cominciava a scendere cautamente lungo il rapido passaggio con i piedi di traverso come su una scala a pioli. Solo nelle terribili visioni delle droghe o del delirio qualcun altro può fare una discesa simile alla mia. Lo stretto passaggio scendeva all'infinito come uno spaventoso pozzo infestato e la torcia che tenevo alta al di sopra della testa non riusciva ad illuminare le ignote profondità verso cui strisciavo. Persi il conto delle ore e dimenticai di consultare l'orologio sebbene avessi paura al pensiero della distanza che stavo percorrendo. C'erano cambiamenti di direzione e di rapidità e una volta arrivai ad un passaggio lungo basso e piano dove dovetti strisciare contorcendomi con i piedi in avanti sul fondo roccioso tenendo la torcia tesa al di sopra della testa. Quel posto non era abbastanza alto per starsi in ginocchio. Dopo quel passaggio c'erano altri ripidi scalini e stavo ancora scendendo in quell'abisso senza fine quando la torcia morente si spense. Non penso che me ne accorgessi subito perché quando me ne accorsi la reggevo ancora al di sopra del capo come se fosse accesa. Ero completamente preso da quell'impulso per lo strano e l'ignoto che mi aveva fatto diventare un esploratore della terra e un cercatore di luoghi remoti antichi e proibiti. Nel buio mi passarono rapidamente nella mente frammenti della mia adorata raccolta di sapere demoniaco. Frasi di Lazred, l'arabo pazzo, brani degli incubi apocrifi di Damascus e versi infami del delirante Images du monde di Gautier de Metz. Ripetei bizzarre frasi e mormorai di Afrasiab e di altri demoni che vagano con lui nell'Oxus. Poi pronunciai mille volte, monotonamente, una frase di uno dei racconti di Lord Dunsany, le irriverberate tenebre dell'abisso. Quando infine la discesa divenne incredibilmente ripida, recitai cantire Nando dei versi di Thomas More, finché ebbi paura di recitarli ancora. Un serbatoio di tenebre nere come i calderoni delle streghe, quando sono pieni di droghe lunari distillati nelle eclissi. Chino per vedere se il piede poteva passare lungo quel baratro, vidi al di sotto, fin dove arrivava lo sguardo, le pareti nere e lisce come vetro, come se fossero state appena verniciate di quella pece scura che il regno della morte getta sulle rive fangose. Il tempo aveva ormai cessato di esistere, quando i miei piedi toccarono di nuovo un piano orizzontale, e me trovai in un luogo lievemente più alto delle stanze dei due templi più piccoli, ormai rimasti ad una distanza incalcolabile al di sopra di me. Non riuscivo a stare in piedi, ma solo in ginocchio, e nel buio mi trascinai e strisciai qui e là, a casaccio. Ben presto capii che mi trovavo in uno stretto passaggio, sulle cui pareti si allineavano casse di legno con la parte anteriore di vetro. Quando, in quel luogo paleozoico ed abissale, avvertii al tatto materiali quali il vetro ed il legno lucidato, rabbrividii all'idea delle possibili implicazioni. Le casse si trovavano lungo ciascuna parete del passaggio, a intervalli regolari, ed erano lunghe e disposte orizzontalmente, spaventosamente simili a bare, nella forma e nelle dimensioni. Quando cercai di muoverne due o tre per un esame ulteriore, scoprì che erano saldamente assicurate. Capii che il passaggio era lungo, simoso, e che saliva tanto rapidamente, mi sarebbe stato terribile avere degli occhi fissi su di me nell'oscurità. Ogni tanto passavo da una parte all'altra, per sentire che cosa mi circondava, e per essere certo che le pareti e le file di casse continuavano ancora. L'uomo è così abituato a visualizzare che io quasi dimenticai il buio ed immaginai l'interminabile corridoio adorno di vetro e legno nella sua monotonia, come se lo vedessi. E poi, in un attimo di emozione indescrivibile, lo vidi. Non saprei quando esattamente la mia fantasia si fuse con la visione reale, ma davanti a me comparve un chiarore graduale, e all'improvviso capii che vedevo i vaghi profili del corridoio e delle casse, rivelati da un'ignota fosforescenza sotterranea. Per un breve istante tutto fu esattamente come l'avevo immaginato, visto che il chiarore era molto debole. Ma quando continuai ad avanzare meccanicamente, incespicando verso una luce più forte, capii che la mia fantasia era stata troppo debole. Quel luogo non era un grudere primitivo come i templi della città in superficie, ma il monumento di un'arte magnifica ed esotica. Disegni e pitture ricchi, vivaci e bizzarri, formavano uno schema continuo di pittura murale, le cui linee e i colori andavano al di là di ogni descrizione. Le casse erano di uno strano legno dorato, con la parte anteriore di un vetro raffinato, e contenevano le forme mummificate di creature che superavano in bizzarria i sogni più caotici degli uomini. Comunicare un'idea di quelle mostruosità è impossibile. Erano della famiglia dei rettili. Le linee del corpo facevano pensare a volte al coccodrillo, a volte alla foca, ma più spesso a nulla di cui avessero mai sentito parlare il naturalista e il paleontologo. Nelle dimensioni si avvicinavano a un uomo di bassa statura, e le zampe anteriori terminavano con dei piedi delicati e ben formati, stranamente simili a mani e dita umane. Ma la cosa più strana di tutte erano le teste, che presentavano un contorno che sfidava tutti i principi noti della biologia. A niente quegli esseri potevano essere comparati. In rapida successione li confrontai al gatto, al bulldog, al mitico satiro e all'essere umano. Nemmeno Giove aveva una fronte così colossale e sporgente, ma le corna, l'assenza di naso e le mandibole dall'igatore, mettevano quelle cose al di fuori di tutte le categorie stabilite. Riflettei per un attimo sulla realtà di quelle mummie, con il sospetto che si trattasse di idoli artificiali, ma ben presto decisi che erano veramente una specie paleogena che doveva aver vissuto quando la città senza nome era viva. A coronare il loro aspetto grottesco, la maggior parte era sfarzosamente avvolta di stoffe preziosissime e carica di ornamenti d'oro, di pietre preziose e di ignoti metalli scintillanti. L'importanza di quelle creature striscianti doveva essere stata enorme, perché occupavano il primo posto tra i bizzarri disegni delle pareti e del soffitto affrescati. Con una perizia ineguagliabile, l'artista le aveva ritratte in un loro mondo, in cui avevano città e giardini fatti per adattarsi alle loro dimensioni. Non potei fare a meno di pensare che la loro storia in immagini era allegorica, forse illustrava i progressi della razza che li aveva adorati. Quelle creature, mi dissi, erano per gli uomini della città senza nome quello che la lupa era per Roma, o quello che un animale totem è per una tribù di indiani. Mantenendo questo punto di vista, potei seguire a grandi linee la meravigliosa epopea della città senza nome. Il racconto di una potente metropoli costiera che aveva dominato il mondo prima che l'Africa emergesse dal mare, e delle sue notte, quando il mare si era ritirato e il deserto era avanzato nella fertile vallata in cui sorgeva. Vedi le sue guerre, i suoi trionfi, i suoi problemi e le sue sconfitte, e in seguito la sua terribile lotta contro il deserto, quando migliaia dei suoi abitanti, i rappresentati allegoricamente da rettili grotteschi, furono costretti ad aprirsi la strada tra le rocce in un modo stupefacente e a scendere nell'altro mondo di cui i profeti avevano loro parlato. Era tutto vivido, bizzarro e realistico, e le connessioni con la spaventosa discesa che avevo compiuto erano innegabili. Riconobbi perfino i passaggi. Mentre strisciavo lungo il corridoio verso la luce più intensa, vedi le fasi successive di quell'epopea dipinta. La partenza della razza che aveva dimorato nella città senza nome e nella vallata intorno per dieci milioni di anni. La razza il cui animo era riluttante a lasciare scenari che il corpo conosceva fin da quando essa aveva abbandonato la vita nomade nella giovinezza della terra e aveva tagliato nella roccia vergine quelle reliquie primitive che non aveva mai cessato di adorare. Quando la luce fu più forte studiai le pitture più da vicino e ricordando che gli strani rettili dovevano rappresentare gli uomini sconosciuti riflettei sui costumi della città senza nome. Molte cose erano particolari ed inspiegabili. La civiltà che comprendeva un alfabeto scritto era apparentemente arrivata a un livello superiore a quello raggiunto dalle civiltà, incommensurabilmente più tarde, dell'Egitto e della Caldea. Eppure c'erano strane omissioni. Non riuscii per esempio a trovare nessuna pittura che raffigurasse la morte o le usanze funebri, tranne quelle in relazione alle guerre, alla violenza e alle calamità. E mi meravigliai della reticenza mostrata nei riguardi della morte naturale. Era come se avessero nutrito, come dolce illusione, una idea di immortalità. Ancora più vicino, alla fine del passaggio, erano dipinte scene di grande pittoricità e stravaganza, vedute contrapposte della città senza nome nel suo abbandono e nel suo crescente decadimento, e del paradiso strano e nuovo verso il quale la razza si era aperta la strada attraverso la roccia. In quelle vedute, la città e la vallata deserta erano mostrate sempre alla luce della luna, con una nube dorata che si librava sulle mura crollate e faceva intravedere la splendida perfezione dei tempi passati, ritratta spettralmente ed esclusivamente dall'artista. Le scene paradisiache erano fin troppo stravaganti per poter essere ritenute reali. Ritraevano un mondo etereo, nascosto di giorno, pieno di città gloriose, colline e vallate diafane. Alla fine mi parve di vedere i segni di un certo decadimento artistico. I dipinti erano meno abili e molto più bizzarri, perfino delle più strane delle scene precedenti. Sembravano documentare una lenta decadenza dell'antica razza, accompagnata da una ferocia crescente verso il mondo esterno da cui era stata cacciata nel deserto. Le forme delle persone, sempre rappresentate dai rettili sacri, sembravano deperire gradualmente, sebbene il loro spirito, che veniva mostrato mentre si ribrava sulle rovine alla luce della luna, ne acquistasse in grandezza. Sacerdoti e maciati, rappresentati da rettili in tuniche riccamente adorne, maledicevano l'aria del mondo superiore e tutto quello che la respirava. È una terribile cena finale. Raffigurava un uomo dall'aspetto primitivo, forse un pioniere dell'antica Irem, la città delle mille colonne, dilaniato dai membri della razza più antica. Ricordai quanto gli arabi temessero la città senza nome e fui felice che, tranne che in quel luogo, le pareti e i soffitti grisi fossero spoglie. Nel guardare lo spettacolo, rappresentato da quella storia naturale, mi ero avvicinato alla fine del passaggio dal basso soffitto e notai un'apertura da cui proveniva tutta quella fosforezza, scienza luminosa. Stresciai fino ad essa e gridai stupefatto nel vedere che cosa c'era al di là. Infatti, invece di altre caverne più luminose, c'era solo un vuoto illimitato di radiazioni uniformi, come ci si può immaginare di vedere guardando in basso, dalla cima del monte Everest, un mare di nebbia illuminato dal sole. Alle mie spalle c'era un passaggio così basso che non riuscivo a stare in piedi e davanti a me c'era un infinito fulgore sotterraneo. Dal passaggio partiva verso l'abisso una ripida rampa di gradini, gradini numerosi e piccoli, simili a quelli dei passaggi bui che avevo attraversato. Ma dopo pochi centimetri i vapori luminosi nascondevano ogni cosa. Spalancato contro la parete sinistra del passaggio, c'era il massiccio battente di una porta di ottone, incredibilmente spesso e decorato con fantastici bassorilievi, che se chiuso, poteva isolare completamente tutto il mondo di luce dalle caverne e dalle gallerie di roccia. Guardai i gradini e per il momento non osai avventurarmici. Toccai quindi la porta aperta ad ottone, ma non riuscii a spostarla. Poi mi stessi prono sul pavimento di pietra, con la mente infiammata da pensieri prodigiosi che nemmeno la stanchezza mortale poteva spegnere. Mentre giacevo immobile ad occhi chiusi, deciso a riflettere. Molte cose che avevo notato superficialmente negli affreschi mi ritornarono in mente con una gravità nuova e terribile. Scene che rappresentavano la città senza nome nei giorni del suo splendore, la vegetazione della vallata che la circondava e le terre lontane con le quali i suoi mercanti facevano commerci. L'allegoria delle creature striscianti mi sorprendeva per la sua preminenza assoluta e mi perché fosse stata seguita così rigidamente in una storia murale di simile importanza. Negli affreschi la città senza nome era raffigurata in proporzioni adatte ai rettili. Mi chiesi quali fossero state le sue vere proporzioni e la sua magnificenza e riflettei per un attimo su certe stranezze che avevo notato nelle rovine. Pensai con meraviglia alla bassezza dei primi templi e dei corridoi sotterranei che erano stati senza dubbio scavati in quel modo tenendo conto delle divinità rettili che vi venivano adorate. E nonostante il fatto che costringessero gli adoratori a strisciare, forse il rito vero e proprio esigeva che i fedeli strisciassero per imitare le creature. Nessuna teoria basata sulle credenze religiose però poteva facilmente spiegare perché i tunnel piani in quella spaventosa discesa dovessero essere bassi come i templi o più bassi visto che non ci si poteva nemmeno stare in ginocchio. Quando pensai alle creature striscianti le cui orrende forme mummificate mi erano così vicine, trovai una nuova ondata di paura. Le associazioni mentali sono strane e rifugiò dall'idea che tranne per il povero primitivo dilaniato nell'ultimo dipinto la mia era l'unica forma umana tra i molti resti e simboli di una vita antichissima. Ma come sempre nella mia esistenza strana e vagabonda la meraviglia presto scacciò la paura. Infatti l'abisso luminoso e ciò che poteva contenere erano un problema degno del più grande esploratore. Non potevo dubitare che un mondo soprannaturale di mistero fosse in fondo a quella rampa di strani e piccoli gradini e speravo di trovare quei ricordi umani che il corridoio dipinto non mi aveva fornito. Gli affreschi dipingevano città incredibili e fallate in quel regno inferiore e la mia fantasia indugiò sulle rovine ricche e colossali che mi aspettavano. Le mie paure in realtà riguardavano il passato più che il futuro, nemmeno l'orrore fisico della mia posizione in quello stretto corridoio di rettiri morti e di affreschi antidiluviani, miglia e miglia al di sotto del mondo che conoscevo e davanti a un altro mondo di luce e nebbia misteriose poteva eguagliare il terrore mortale che provavo davanti all'antichità abissale della scena e dal suo spirito. Un'antichità così vasta che ogni misurazione era insufficiente e sembrava spiare malignamente dalle pietre primitive e dai templi tagliati nella roccia della città senza nome, mentre le ultime stupefacenti mappe degli affreschi mostravano oceani e continenti che l'uomo ha dimenticato. Solo qui e lì c'era qualche profilo familiare. Nessun uomo sa cosa può essere successo nelle ere geologiche dopo che gli affreschi erano cessati e la razza che odiava la morte aveva ceduto con rabbia al decadimento. Una volta quelle caverne e il luminoso regno al di là avevano brulicato di vita. Ora ero io solo con quei vividi resti e tremai al pensiero delle innumerevoli ere durante le quali quei resti avevano vegliato silenziosi e soli. Ad un tratto arrivò un'altra ondata di quella paura acuta che mi aveva assalito a intermittenza fin da quando avevo visto per la prima volta la terribile vallata e la città senza nome sotto una fredda luna e malgrado la stanchezza mi sorpresi a cercare freneticamente di sedermi per scrutare lungo il corridoio buio i tunnel che salivano al mondo esterno. Le mie sensazioni erano simili a quelle che mi avevano fatto evitare di notte la città senza nome ed erano inspiegabili per quanto erano acute. Dopo un momento però provai uno spavento ancora più grande a causa di un rumore ben definito il primo che aveva rotto il silenzio assoluto di quelle profondità sepolcrali. Era un gemito profondo e basso come se provenisse da una folla lontana di anime dannate e proprio dalla direzione in cui stavo guardando. Il suo volume crebbe rapidamente finché cheggio lugubremente nel basso corridoio e nello stesso momento notai una corrente d'aria fredda che similmente diveniva sempre più forte affluendo dai tunnel e dalla città soprastante. Il tocco di quell'aria parve restituirmi l'equilibrio mentale poiché ricordai immediatamente le improvvise folate di vento che si erano alzate intorno all'imboccatura dell'abisso ad ogni alba e ad ogni tramonto e una di esse mi aveva del resto svelato i tunnel nascosti. Guardai il prologio e vidi che l'alba era prossima perciò raccolsi tutte le mie forze per resistere al vento violento che stava tornando alla sua caverna d'origine così come ne era uscito la sera. La mia paura si attutì nuovamente visto che i fenomeni naturali tendono a disperdere le considerazioni sull'ignoto. Sempre più selvaggiamente il vento stridente e lamentoso della notte si riversava nell'abisso. Ricaddi a terra e mi afferrai in vano alla roccia per paura di essere trascinato di peso attraverso la porta aperta nell'abisso fosforescente. Non mi ero aspettato una tale violenza e quando mi accorsi che il mio corpo stava scivolando veramente verso l'abisso fui assalito da mille nuovi terrori nati dall'ansia e dall'immaginazione. La malevolenza della corrente d'aria destò in me fantasie incredibili. Ancora una volta mi paragonai con raccapriccio all'unica immagine umana in quello spaventoso corridoio. Quell'uomo che era stato dilaniato dalla razza senza nome poiché nel diabolico ghermire delle correnti turbinanti. Si sentiva una rabbia vendicativa tanto più forte quanto più era impotente. Credo che verso la fine gridai freneticamente. Era impazzito ma seppure lo feci le mie grida si persero in quella babele infernale di ululati di vento. Cercai di strisciare verso l'invisibile corrente omicida ma non riuscì nemmeno a mantenermi fermo e venne spinto lentamente e inesorabilmente verso il mondo ignoto. Infine mia ragione dovette abbandonarmi completamente e cominciai a far fugliare ossessivamente il distico inspiegabile dell'arabo pazzo al Asred che sognò la città senza nome. Non è morto ciò che può vivere in eterno e in strani e oni anche la morte può morire. Solo i tristi e pensierosi dai del deserto sanno che cosa avvenne veramente. Quali lotte sostenni nel buio o quale abbandon mi riportò alla vita. Vita durante la quale dovrò sempre ricordare e rabbrividire al vento della notte fino a che l'oblio o qualcosa di peggio mi chiamerà. Mostruosa in un naturale colossale era quella cosa troppo lontana da tutte le idee dell'uomo per essere creduta tranne che nelle silenziose e maledette ore della notte quando non si riesce a dormire. Ho detto che la violenza del vento impetuoso era infernale, demoniaca e che le sue voci erano orribili per la malvagità repressa di un'eternità desolata. Ben presto quelle voci pur essendo ancora confuse davanti a me nel mio cervello pulsante sembrarono assumere una forma articolata e laggiù nella tomba di esseri antichi morti da innumerevoli eoni situata a leghe al di sotto del mondo degli uomini illuminato dalla luce dell'alba sentì le maledizioni e le proteste spettrali di demoni dalle strane lingue. Mi voltai e vidi stagliarsi contro l'etere luminoso dell'abisso quello che non avevo potuto vedere nel buio del corridoio. Un'orda da incubo, di diavoli, diavoli distorti dall'odio, agghindati grottescamente, semitrasparenti, diavoli di una razza sulla quale non c'era da sbagliarsi. Erano rettili striscianti della città senza nome e quando il vento cessò sprofondai nel buio spettrale delle viscere della terra perché dietro l'ultima creatura la grande porta di ottone si chiuse con un assordante clangore musicale i cui echi salirono fino al mondo lontano per salutare il sole sorgente così come Memnon lo salutava dalle rive del Nilo.